Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft di ottava stagione per un nuovo episodio Allora ragazzoli, nello scorso episodio eravamo appunto andati a sistemare quello che è stato poi il collegamento tra il Nether e il Land Per arrivare più prima possibile nel Nether, nel Land scusate, o almeno alla fortezza dello Stronghold Sì, so perfettamente che non è chissà cosa, però comunque, cioè non è, oh my god, una cosa così fighissima in verità perché ancora non siamo riusciti ad andare in Land Però in linea di massima ci siamo Allora, belle edizio, che cosa facciamo? Blocchi di ferro Oggi andiamo a fare, a rendere questa base ancora più sicura del solito Che vuol dire ancora più sicura? È una base che effettivamente funziona e funziona bene, sono d'accordo Ma in tutti i casi bisogna fare qualche upgrade perché effettivamente così ancora non ci siamo E adesso andremo appunto a vedere tutti questi upgrade, vedremo un po' come farli, come girarci su questa roba Che cosa fare, che cosa non fare e tutto il resto Allora, allora mi sto impappinando un po', sì, si vede oggi il giornale pesante è salzato alle 6, sono le 7, le 8 della sera Sono salzato a Roma fino adesso quindi, problematico, ma non ci perdiamo in chiacchiere Allora, la prima cosa da fare, golem al primo piano Ogni piano avrà un cazzo di golem, nella mia idea Però questi stronzi possono camminare secondo me, eh sì, qui ci passano golem E non posso impedirli probabilmente di passare Loro gireranno un po', magari se ne andranno a tirare una parte Sono carini perché passeggiano e ci vuole secondo me un altro golem, no? Uno per ogni piano lo mettiamo, in linea di massima Tanto non possono uscire qua dentro, è una fortezza ragazzi E qua dentro non ci si entra, ma i mob neanche per sbaglio ci entrano qua dentro Che è nel senso, deve diventare appunto una vera e propria fortezza Con un sacco di golem al suo interno Qui ci siamo, ok? Dato che sopra dove... Oh, qua possono uscire, qua dobbiamo chiudere bene Qua dobbiamo fare qualcosa per chiudere Perché effettivamente qua si può entrare tranquillamente Era uno dei pochi sbocchi che ho lasciato aperto Qua il golem ce l'abbiamo messo Ci manca il golem appunto al piano terra Qua vicino alla miniera Tac, tac, tac Questo lo dobbiamo togliere E... Ecco anche questo altro golem fatto Quindi abbiamo per ora un golem a piano Qui il golem non può passare perché è largo 3 Questa è una porta larga 2 Lui il golem... Lì il golem non ci passa, neanche da tanta roba Non dovrebbero dar fastidio ai carrelli Perché il carrero passa qua Qui magari ci mettiamo delle fence per coprire Qui non ci può passare Ripetevamo Non possono killarsi Perché qui non ci possono entrare L'unico... Ok, qua si può entrare in verità Saltare qua sopra e morire male Golem non sarai così tonto Ok ragazzoli Mi sono fortunato tutto il call che stava qua dentro E ero intenzionato a fare in verità Vediamo se qua c'è qualcosa che ho cotto Un po' di stone La prendiamo Prendiamo un po' di stone Ero intenzionato in verità a fare una cosa A rimuovere tutta sta roba qua Perché forse le furnace la sono un po' passate Abbiamo materiali Utilizziamo questi materiali Qua mi servono delle crafting Il prima possibile Sì ma io ho veramente Tanto call cazzo Ho veramente tanto Porca miseria Ok 29 pezzi Forse sono anche un po' troppi Però facciamo anche il deposito del call Proprio un ammasso di roba E' figo secondo me fare anche il deposito Di tutti i vari materiali E qui ci potrebbe stare Secondo me il deposito di call In cui noi possiamo mettere Tutta sta roba Perché effettivamente il call Serve nelle parti di furnace Oh porca miseria È fondamentale il call Nella parte delle furnace No Cavolo Volete mettere Se non c'è il call Non va bene un kaiser Lo riempiamo Lo facciamo pieno Stica Alla fine Ok Tutta sta parte di call Ci mettiamo sopra la cestolina Tac Qui Bellissima Con il coso sopra l'item frame Ci buttiamo dentro un item Tac Questi li ributti tutti dentro E ti sei fatto la montagnola di call Che secondo me è più bella Di quelle che erano le nostre No dai bruttissime Ok già ci sta di più secondo me Qui c'è la montagna di call Qui Carino Dai dai Che stile prison Secondo me Dato che parlavamo proprio di maggior sicurezza Ho pensato bene di mettere una staccione da là Con due cancelli In modo tale da evitare qualsiasi possibile cosa Da qui comunque c'è il grano Che è una risorsa per noi importante Perché comunque ci facciamo il pane E il pane non ci serve un botto Questo può essere interessante Guardate l'enderman là Enderman Ah Incazzato Incazzato Mi stai smontando mezzo grano Me la messa a cadere dal grano C'è azionale Non ti si incazza e poi viene qua Povero enderman Sì che si fissano sti golem Così Vabbè ma fissate Fate pure non è un problema E resteranno là probabilmente per sempre Sti cazzi Sono carini Io li vedo solamente per di bellezza sti golem Assolutamente sì Perché qua dentro tanto non ci possono entrare mob E se entrano Beh ci penseranno loro A massacrarli di botte Ma proprio pesanti Qui c'è la farm di pesca Qui c'è la la parte dell'acquario E qui ci dovrebbero arrivare I drop dei mob Che vengono sotto dalla farm Infatti ci arrivano E' carina La farm ovviamente per chi non lo sapesse È sottostante Utilizziamo l'acqua per farli salire Allora dove li mettiamo? A chi? Ok molto bene Abbiamo una quantità di slime Che è disumana E continuerà ad essere disumana Perché abbiamo una delle farm Forse di slime più efficiente del mondo Ma non diciamolo a nessuno A questo punto ragazzoli Che cosa andiamo a fare? A questo punto secondo me conviene Andare a predisporre già Una base Per l'iron tie No no scherzo Bene a farm di ferro Normalissima farm di ferro Underground Quindi sotto terra Questa parte è ancora fuori Dalla zona Ok qua sotto Perché potremo sfruttare tranquillamente Le rotaie per portare su del ferro Ok? In che modo però? Perché se mi vanno là È problematico Devo trovare un'altra linea Potremmo tranquillamente trovare un'altra linea Oppure li buttiamo magari In un ascensore di item E vanno tutti su Come sempre Facciamo un salto alla farm di slime Perché questa produce come i draghi E sono curioso di vedere Quanto ha prodotto sto Eh eh È piena Cazzo Raga No vabbè comunque È veramente disumana Abbiamo slime per farci una guerra È un po' che non venivo giù effettivamente Però capite che così è veramente È insostenibile Non è una cosa del genere Che poi Ho anche l'i Il Coso Il coso pieno Cioè è tutto pieno Probabilmente Il L'hopper pieno Vabbè Fomfonte sega Adesso si riempirà Comunque noi abbiamo fatto quanto Uno stack Due stack Tre Quattro Sei stack e cinque Item Sei stack e cinque item Di slime Ragazzi E nessuno ha una farm di slime del genere Secondo me No ditemi qualcuno che ha una farm di slime del genere E continuerà ad aumentare ancora un po' Perché c'è l'ho per pieno Allora ragazzi Dato che voglio investire in questa zona qua Effettivamente Perché la voglio fare un po' più carina Dato che fa schifo Direi Che la farm di ferro Potremmo farla da qualche parte qua Questa è una zona interessante Secondo me Caricati cianco Ok Perché effettivamente si scende poco Io direi di fare No Perché queste rotaie mi servono Queste sono a Per andare su e scende Fondamentali No 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 Scherzo Però si potrebbe fare magari Una sottospecie di scala interna Che da qui ci porta direttamente sopra Allarghiamo il tutto Mettiamo il pavimento diverso Mettiamo tutta questa parte diversa E poi facciamo la farm di ferro Qui ci possiamo fare comunque sì Sempre una stazione che scende Oddio In verità adesso Metterci una stazione è un po' inutile Perché comunque Non ci serve a granché tutta sta zona Dato che poi arrivi in una parte Boh Fa così a caso Arrivi di qua E sei subito alla farm Ok potremmo utilizzare quella Come linea ferroviaria Linea massima Et voilà Signore e signori Eccoci qua Che cosa abbiamo fatto In linea massima In tutto questo tempo Quanti sono Queste ne sto facendo ogni due Uno due Tac Uno due Tac Ok stessa cosa La possiamo proporre di qua Anche se In questa linea C'è la cosa Ogni due Così Uno due Ho una besta che mi cammina sul collo Un mosferino Una zanzara Non so cosa sia In tutti i casi Mi cammina qualcosa sul collo Ok Allora Questo è quanto Ho fatto questa zona molto più carina Secondo me Rispetto a prima Che era abbastanza Passatemi il termine Brutta Allora 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 Qui si prosegue ovviamente Non possiamo rifare tutta questa zona qua Però 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 Secondo me Allora qua C'è la solita fermata Qualche cosa Questo è tutto collegato E si conclude giù Questo va bene qua Per ora si ferma qua Tu scendi tranquillamente Poi te la dovrai fare a piedi E adesso io direi di andare a fare Proprio il collegamento Della parte a piedi Poi ci dovremo fare Una Eh sì sì no Non serve serve Ci mettiamo delle scale Che guardate La distanza è talmente poca Che si colma facilmente Non dovrebbe essere un problema Secondo me Passare Da una parte e dall'altra Raggiù C'è poco L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti È questo giro qua Quindi io direi Eh po Porca miseria Porca miseria Dove passiamo? Eh di qua per forza E sono in largo 2 Sono in largo 2 Non mi piace Un po' strettino In largo 2 però O lo facciamo in largo 3 Questi cavoli Del fatto che comunque Una va su Una va giù Me non frega un Kaiser Vedo anche la ferrovia Che potrebbe essere anche carino Vedere se è una cosa del genere Me lo faccio sempre con Gli spruce Qui possiamo togliere Anche questo lato qua Sti cavoli Però qua dobbiamo recintare bene Dopo Sono dell'idea che tra poco Dovrò fare una nuova chest Per quanto riguarda Gli slime block Perché cazzo ragazzi Incredibile Va bene Non è questo che ci interessa Per il momento Che cosa Che cosa ci interessa Effettivamente Allora Qua abbiamo Dove siamo Dove siamo Scendi 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 Allora Fatto più figo Qui Scende la nostra Cosa Ok La nostra Il carrello Sì scende da qua Dopo che è scaricato Quindi a noi non ci interessa Particolarmente Di dove passa il carrello Qui si vede Però secondo me ci sta anche Il fatto che sia carino Da vedere no Ci può stare Ci può stare Come non stare Però meglio Non sono riuscito Potuto fare Non ho potuto fare di meglio Qui sì ancora un po' Sui giù da fastidio Ci sto lavorando Ho scavato un po' Però capite che è faticoso Sta zona è molto più carina Mi piace molto molto di più È fatta Ancora È fatta bene È interrata Quindi ci stiamo allargando Anche in questa direzione Ed ora La cosa un po' più particolare Là Là ci facciamo Una zona che entra Non voglio fare niente Quindi sarà una farm di ferro Non costruita Ma scavata Quindi una farm di ferro diversa No in verità È funzionalmente lo stesso Ma è scavata Invece che Che è costruita Questo aumenta D'efficienza Per il semplice fatto Che non si possono bugare I mob I golem Non si possono bugare Per il semplice fatto Che Che cosa succede Loro Spawnano magari Non possono spawnare Sopra i soldi Spawnavano sopra le vasche Non dentro Ma magari sul bordo E quindi Si impallava tutto Non può succedere Perché ovviamente Non ci saranno slot Di spawn disponibili E quindi Ne guadagniamo d'efficienza Ho fatto una divisione Anche un po' più carina Di questa zona qua Qui magari la dovremo migliorare Dovremmo togliere Tutta questa parte Però Mi piace 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 Qui ci sarà un'altra entrata Quindi Molto molto meglio Che cos'altro Mi resta da fare In verità In verità Nulla Di particolarmente grave Perché Per scendere Abbiamo Questo è un metodo Abbastanza veloce Di trasporto Qui comunque Avremo la possibilità Di avere una bella Farm di ferro Con i drop Che ci arriveranno Spero Direttamente qua Ci faremo magari qui Proprio Il magazzino del ferro Ancora più in basso Quello della redstone E così via Dove possiamo farmare Magari dove ci ritroviamo Certo avere una mappa Di tutta sta zona Inizia ad essere anche Abbastanza particolare E difficile Però Penso ci riusciremo Tranquillamente Qui c'è da scavare Da scavare tanto Per fare questa bella scalinata Oggi abbiamo fatto Una cosa abbastanza interessante Che è stata quella Di intanto aumentare La difesa Della nostra base E soprattutto Quella di costruire Altre zone Che andremo ad utilizzare Poi per il ferro E soprattutto Una volta che andremo a fare Questa parte per il ferro Che ci servirà Soprattutto anche Per creare altri golem Capite ragazzoli Che col ferro Siamo un po' in crisi E ci serviranno altri golem Fidatevi di me Ci serviranno tanti altri golem Perché sono utili Sono utili in sacco Noi golem Ma raga Porca miseria Poi ne piazziamo Una anche qua Sotto Iniziamo a riempire Sto posto A popolarlo Perché questa zona Poi si popolerà anche Magari qui ci dobbiamo mettere Necessariamente in cancelletto Perché i villager Potrebbero raggiungere Anche questa zona E la cosa Non è che mi vada Proprio proprio a genio Perché effettivamente Poi potrebbe essere Problematico Se vanno qua sotto Quindi qui ci mettiamo No qua non ce li facciamo Andare a villager Va bene ragazzoli Penso che per questo video Posta tranquillamente Essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Lasciate mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere il video Per farmi lasciare le persone Mi raccomando Passate tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo un po' al site Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi